Siamo davanti al Comune di Torino dove c'è un presidio in atto dei manifestanti in Ottav, presidio che è iniziato in concomitanza con il Consiglio Comunale. Queste sono le ceneri che i manifestanti hanno posto qui davanti al Comune, sono le ceneri del presidio in Ottav di Borgone e di Susa che è stato incendiato nella notte tra sabato e domenica scorsa. Abbiamo anche consegnato un breve comunicato del Movimento e degli amministratori di Val di Susa e Val Sangone in cui condanniamo tutti gli episodi, in particolare ovviamente quelli di stampo mafioso dell'incendio al presidio. Anche secondo noi la lettera Chiamparino è un altro episodio che cerca di avvelenare il clima intorno alla questione del TAVI in questo momento delicato per il territorio.